ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video in cui parliamo di filati anche questa volta ci sono filati che conosco e che ho già usato e filati nuovi che conosceremo insieme anche tutti i filati di cui vi parlo oggi li potete trovare nello shop online della merceria arcobaleno che è la merceria della mia zona vi lascio il link nella descrizione del video oggi abbiamo un misto di marche e di tipi di filato iniziamo con con il tuscan e tweed questo è un filato che mi piace davvero tanto diciamo che tutti i filati tweed mi piacciono molto è bellissimo morbido ma non come la lana merino ovviamente anche perché la composizione è 55 per cento lana 30 per cento viscosa 15 per cento al pacca e il 15 per cento di al pacca devo dire che si sente ma si sente anche la viscosa e ovviamente la lana è un filato che mi piace tanto che ho usato l'anno scorso un po per rosetto lucido scritto perché tweed ovviamente sono gomitori da 50 grammi ogni gomito lo è lungo circa 170 metri e sono consigliati ferri o uncinetti da 3 3,5 mm l'anno scorso con questo filato ho fatto il tutorial di questa mantellina o coprispalle che si può usare in varie forme se non avete visto il tutorial come sempre vi lascio il link nella descrizione del video questo ha portato tanto quindi vi posso dire che il tuscan e tweed è un filato caldo confortevole è un filato che sostiene il lavoro che facciamo è un filato che ha sostanza che ha corpo questa è fatta ad uncinetto con la tecnica del finto punto elastico a ferri un progettino facile relativamente veloce da fare un regalo meraviglioso per esempio per il natale che sta arrivando un filato che non ho mai usato è questo è il wool alpaca di ispe sono gomitori da 50 grammi ogni gomitore lungo circa 135 metri 65 per alpaca e sono consigliati ferri da 4 e uncinetti da 4 e mezzo 5 il filato si presenta così sono sono tre capi è un filato morbido si sente però anche l'alpaca dentro per rosetto bellissimo con questo possiamo fare tutto quello che vogliamo maglioncini berretti scaldacollo una copertina un plaid con questo secondo me sarebbe meraviglioso questo però non l'ho ancora usato quindi vediamo se riesco a usarlo quest'inverno se l'avete già usato voi aspetto di leggere i vostri messaggi sotto il video un altro filato simile ma decisamente diverso è questo di rowan l'alpaca soft di cappa sono sempre gomitori da 50 grammi in questo caso abbiamo 70 per cento lana vergine 30 per cento alpaca questo era 65 merino 35 alpaca 50 grammi questi sono 125 metri questi erano 135 e vedete che così a prima vista questo sembrerebbe più grosso di questo però qui ci sono 10 metri in meno quindi non fidatevi della né della metratura né dello spessore bisogna sempre fare un campioncino per capire la resa che ha un filato come morbidezza se devo essere onesta questo è più coccolo in mano decisamente la trecciolina è più ritorta infatti questo sembrava più sottile però è morbidissimo e qui abbiamo quattro capi l'altro ne aveva tre questo ne ha quattro con questo filato vi ho già fatto un tutorial anzi a dire il vero di tutorial ne avevo fatti due perché ho fatto questo berrettino abbinato al suo scaldacollo in questo caso ho usato questo filato della rowan però doppio e il risultato è un berretto caldo morbido e bello grosso come se fosse un filato bulki ovviamente di tutti i pezzi che vi mostro vi lascio i link al tutorial nella descrizione del video vedete che è un filato super super morbido questo è uncinetto sono punti bassi quindi più rigido di così non poteva essere e invece è super morbido un altro filo che conosciamo bene o al meglio io conosco bene è il senales della ispe è 50 per cento merino 50 per cento acridico sono gomitori da 100 grammi 100 grammi e ogni gomitoro è lungo circa 125 metri è un bel filato morbido è un filato con molte meno pretese per esempio del rowan però molto accessibile come prezzo il filato è questo una trecciolina più aperta rispetto al rowan per esempio e sono quattro capi è un filato morbido con cui possiamo fare anche cuscini coperte un filato più basic più economico ma sempre molto bello con questo ho fatto il mio super poncio qualche anno fa questo è super facile velocissimo da fare se vi piacciono i ponci se vi piacciono le mattonelle questo dovete farlo assolutamente lo possiamo fare con il senales oppure con il duetto che è un altro filo che mi avete visto usare mille volte anche sugli amigurumi che è questo è il fratello minore del senales è più sottile sono gomitori da 50 grammi 50 per cento lana 50 per cento acrilico 50 grammi 125 metri 100 grammi 125 metri quindi questo è ovviamente un filato più sottile da lavorare con uncinetti del 4 mentre questo forse non ve avevo detto è da usare con uncinetti da 5 e mezzo 6 infatti volendo anche per esempio per fare questo questo poncio potete usare il senales usato singolo oppure se del senales per esempio non ci sono tutti i colori che c'è che ci sono invece del duetto potete usare anche il duetto doppio per esempio nel caso del mio poncio tutti i colori sono senales tranne questo zucca diciamo che è un duetto lavorato doppio per quest'anno un sacco di idee e mi piacerebbe farvi una pantofola con il senale se è già abbozzata però vediamo se riesco a farvi il tutorial fatemi sapere se vi interesserebbe per ultime ho lasciato due novità almeno due novità per me che sono due filati di land in order che sono questo per fare calzini che mi attira tantissimo guardate che sfumature poi ci sono altri colori tutti bellissimi sono gomitoli da 100 grammi e ogni gomitolo e lungo circa 420 metri la composizione è 75 per cento lana 25 per cento nylon e sono consigliati ferri da 23 e uncinetti da 23 è un filato a tre capi morbido avevo iniziato un mini campioncino ad uncinetto ma qui vi dico la verità mi piacerebbe tanto fare dei calzini a ferri oppure a nuking fatemi sapere se l'idea vi piacerebbe sono quasi sicura che quest'anno non succederà però potrebbe essere un tutorial di dopo natale o dell'anno prossimo fatemi sapere se vi interessa il tutorial dei calzini che saranno comunque oa ferri o ad uncinetto con la tecnica del nuking e per ultimo vi ho lasciato il poema stripes di land in order questo è il filato che il primo filato che mi ha attirato la mia attenzione quest'anno e che sto lavorando per farvi ovviamente un tutorial nuovo questo le sfumature parlano da sole questo quando l'ho visto pensato proprio all'autunno alle zucche alle foglie che cadono però ci c'è in tanti altri colori tutti bellissimi allora sono gomitori da 150 grammi e ogni gomitore lungo 450 metri quindi qui c'è da divertirsi parecchio con un gomitore 100 per cento lana sono consigliati ferri da 4 o 6 e uncinetti da 4 e mezzo 6 e mezzo e qui abbiamo questo campioncino lavorato a nuking non vi mostro di più ma il filato è una nuvola super morbido anche questo è un filato che non è regolare ci sono punti in cui è più grosso punti in cui è più sottile è per osetto e fa parte dei filati soffiati una nuvola morbida e colorata e non vedo l'ora di finire il lavoro e di farvi vedere il tutorial come sempre aspetto di sapere le vostre opinioni sui filati che vi ho mostrato quali vi piacciono di più se li conoscevate se non li conoscevate quali vi piacerebbe lavorare e se li avete già usati cosa avete fatto con questi filati io vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo video e per il vostro appoggio e per tutti i vostri messaggi meravigliosi ci vediamo nel prossimo video e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio ciao ciao